benvenuti benvenuti alla diretta di oggi di stampa evangelo vedo che è partita una maschera diversa rispetto al solito è anche scoppiato un brufolo scusate comunque mi pare mi pare che possiamo cominciare salutando Alessandra Bertozzi salutando Marco Rapetti Artigoni Silvia Lodà Giovanni Marco Tullio Alberto Agus allora giornata importante questo 21 aprile Natale di Roma come sapete insomma la nostra capitale festeggia il 2760esimo compleanno e come ho detto da tre millenni quasi illumina con la cultura del diritto la storia di questo nostro mondo poi stranamente abbiamo deciso di piegarci proprio in questo giorno ai diktat degli ordinamenti giuridici nord europei triste vicenda diciamo così e ne parleremo diffusamente oggi con l'approvazione alla camera della legge sul testamento biologico lo ricordo una approvazione che è solo temporanea perché deve passare al valido anche del senato quella legge saluto Mirko De Carli nuovo candidato sindaco del popolo della famiglia a Riolo quindi auguri auguri a Giovanni Marco Tullio che ricorda che oggi è uscito il numero 500 del quotidiano La Croce quindi vedete quante cose da celebrare in un giorno solo e ripeto facebook mi ha cambiato la maschera diciamo così della della diretta quindi cerco adesso di capire bene cosa sia accaduto ma insomma saluto Angelo De Santis Giulio Di Santo Tiziana Mezzadri, Piero Giacometti, Rosa Grazia Pellegrino, Dudu Di Leo, Giuseppe Focone datemi un segnale se la diretta sta comunque funzionando ecco Alex Zino che dice viva il popolo della famiglia saluto anche Armando Miriello, Francesca Marzoli ditemi se funziona tutto così cominciamo con la lettura della buona notizia del giorno Enzo Filia dice che è sanguino ed è un segnale in effetti mi è scoppiato questo brufolo qui sopra e così vedete pure un po' di sangue dicono che il sangue faccia ascolti quindi insomma benissimo grazie a Giuseppe Focone che dice siamo orgogliosi del numero 500 della croce noi abbiamo dovuto titolare sui 37 miseri voti che hanno detto no in Parlamento su 630 20 diritto al voto alla legge sul testamento biologico ricordiamocelo perché le forze di opposizione al testamento biologico potevano contare su circa 200 voti parlamentari ne hanno ottenuti solo 37 esponenti di Forza Italia di primo piano come Stefania Prestigiacomo e Laura Ravetto hanno proprio votato a favore della legge Forza Italia esponenti di alternativa popolare cioè gli alfaniani importanti come Fabrizio Cicchitto hanno votato a favore della legge anche altri esponenti importanti di centrodestra hanno votato a favore della legge oggi Natale di Roma dunque dobbiamo testimoniare l'inchino dei legislatori nazionali italiani all'ordinamento giuridico barbaro del nord Europa barbaro parleremo diffusamente di quello che occorre fare però partiamo prima di tutto come sempre dalla lettura della buona notizia del giorno del Vangelo di oggi saluto Nicola Di Matteo, Francesca Centofanti del coordinamento editoriale, Sara Deodati, Silvia Lodà Antonella Iunia, Maurizio Giuseppucci il mio caro amico Maurizio anche sanguinolento insomma le otto e venti del mattino capisci che grinta e allora andiamo andiamo a leggere il Vangelo di oggi Giovanni ventunesimo capitolo sono i versetti iniziali del capitolo fino al quattordicesimo in quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così si trovavano insieme Simon Pietro Tommaso detto Didimo da Talanele di Cana di Galilea i figli di Zebedeo e altri due discepoli disse loro Simon Pietro io vado a pescare gli dissero veniamo anche noi con te allora uscirono e salirono sulla barca ma in quella notte non presero nulla quando già era l'alba Gesù si presentò sulla riva ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù Gesù disse loro figlioli non avete nulla da mangiare gli risposero no allora disse loro gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete la gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro è il signore Simon Pietro appena lo dì che era il signore ci cinse ai fianchi il camiciotto poiché era spogliato e si gettò in mare gli altri discepoli invece vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci infatti non erano lontani da terra se non un centinaio di metri appena scesi a terra videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane disse loro Gesù portate un po del pesce che avete preso ora ora allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci e benché fossero tanti la rete non si spezzò Gesù disse loro venite a mangiare e nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei poiché sapevano bene che era il signore allora Gesù si avvicinò prese il pane lo dia di loro e così pure il pesce questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere resuscitato dai morti bellissima pagina del Vangelo siamo alla manifestazione e alla testimonianza di Gesù risorto mi viene da fare qualche battuta anche perché questa è una pagina che testimonia diciamo alcuni temi che abbiamo affrontato durante i giorni di Pasqua il cosiddetto animalismo di Gesù secondo alcuni Gesù non mangiava carne animale diciamo così eccoli qua centocinquantatré pesci poveri pesci pescati per volere di Gesù e arrostiti come dire il veganesimo di Gesù in questa pagina del Corriere del Vangelo di Giovanni viene platealmente smentito così come tutte le teorie sui pesci che hanno l'anima e tutte le puttanate che siamo stati costretti ad ascoltare in questi giorni Pasquali appresso ai politici che si fanno la foto con l'agnellino la verità è che come dice Giovanni Marco Tullio poteva far trovare del tofu invece che centocinquantatré grossi pesci e invece ha fatto trovare i pesci e vabbè sto Cristo eh sto Gesù Cristo è risorto questa è la buona novella del giorno questa è la buona notizia del giorno che ci vincola però a una testimonianza di verità ancora più stringente davvero ancora più stringente sui temi importanti proprio per l'incontro con la verità sui temi importanti noi dobbiamo far capire che non esiste libertà senza verità è il tema fondamentale della testimonianza del popolo della famiglia e è anche il metro con cui agire nel complesso contesto politico chiedo a tutti voi a questo punto di fare un mi piace e un condividi a questa diretta perché quello che diremo oggi è di particolare lì avanza rispetto al quadro politico come ho detto la legge sul bio testamento nasce per un asse tra PD e Movimento 5 Stelle a proposito l'improvvida uscita di Marco Tarquinio e di avvenire sul Movimento 5 Stelle oggi viene come dire messa in fuori gioco addirittura da Galantino con un'intervista a pagina 10 del Corriere della Sera a pagina 10 del Corriere della Sera trovate un'intervista di Galantino sostanzialmente contro Tarquinio e si racconta un Galantino urlante mentre uscivano quelle notizie sull'intervista a Grillo e sulla contemporanea intervista di Tarquinio al Corriere della Sera oggi a pagina 10 il Corriere della Sera dà spazio a Galantino per correggere il tiro per l'esperienza che ho io di avvenire è molto difficile che l'intervista a Beppe Grillo nonché l'intervista di Tarquinio al Corriere della Sera sia arrivata senza una copertura ecclesiastica di qualche genere però il gioco delle parti oggi impone a Tarquinio di dire che è tutta farina del suo sacco quindi pagina 10 del Corriere della Sera trovate Galantino incavolato con Tarquinio rispetto alla questione del Movimento 5 Stelle su Repubblica invece trovando un'intervista a Bagnasco che dice duramente il parere della Chiesa sulla legge del testamento biologico dicendo appunto che la Chiesa è contraria a questa legge quindi sia il presidente della CEI che il segretario generale della CEI oggi prendono posizione sui due principali quotidiani italiani curiosamente non so avvenire dove avrebbero potuto avere diciamo spazio a non finire diciamo così per le loro posizioni però insomma i due principali quotidiani italiani ascoltano sia il presidente della CEI che il segretario generale della CEI Ottavio Delugio che ha esperienza del mondo di avvenire dice ad avvenire non esce parola se non è approvata appunto anche io avendo vissuto per molti anni il contesto di avvenire so che questo è il meccanismo soprattutto su questioni così delicate ma è il gioco delle parti è il gioco delle parti e ce lo teniamo così andiamo alla questione politica e davvero vi chiedo un mi piace e un condividi a questo punto della diretta perché cercherò di spiegare con precisione qual è la differenza tra avere dei parlamentari del popolo della famiglia in parlamento anche meno di quei 37 che hanno votato contro perché il popolo della famiglia se raggiungerà lo sbarramento del 3 per cento può ambire ad eleggere una trentina tra deputati e senatori ma con una capacità politica incidente allora ve lo spiego come funziona alternativa popolare cioè gli alfaniani che reggono in piedi il governo gentiloni così come hanno retto in piedi il governo renzi alla camera contano 27 parlamentari ora avete sentito che in tutto i voti contrari sono stati 37 ed erano contrari formalmente alternativa popolare la lega fratelli d'italia forze italia è un pezzo del centro democratico rappresentato dalla parlamentare del movimento per la vita gigli insieme queste forze fanno circa 200 parlamentari compesi quelli di ala e altri eletti del centro destra questi 200 hanno prodotto appena 37 voti contrari che sono stati irrilevanti la legge è stata votata da 326 voti favorevoli e 37 contrari la domanda che si potrebbe porre come farebbe il popolo la famiglia ancora appena 30 rappresentanti fra camera e senato questa è la soglia minima se facciamo il 3 per cento le elezioni ad essere determinante rispetto a queste decisioni molto semplice la provvidenza o la sorte ognuno usa l'espressione che vuole ci ha consegnato un sistema per le prossime elezioni che si chiama proporzionale con soglia di sbarramento bassa cosa vuol dire vuol dire che con appena il 3 per cento dei voti cioè meno di un milione di voti si entra in parlamento poiché la legge è proporzionale le forze politiche rappresentate saranno molte e secondo tutti i sondaggi 20 o 30 parlamentari possono essere determinanti per la formazione di una maggioranza così come in effetti i 27 deputati alfagnani sono stati determinanti per la formazione della maggioranza che ha sostenuto renzi prima e gentiloni oggi seguitemi bene quando noi facevamo i family day i rappresentanti di alternativa popolare cioè di allora ncd vennero in massa ai nostri family day e dissero che avrebbero rappresentato i nostri interessi se li avessero rappresentati veramente avrebbero potuto fare semplicemente una cosa dichiarare che se fossero andati avanti sulla legge cirinna o sulla legge sul divorzio breve o oggi sulla legge sul testamento biologico avrebbero fatto cadere il governo molto semplice poiché quei 27 deputati alfagnani sono decisivi per formare il governo per fermare quelle leggi basta dire se le approvate facciamo cadere il governo poiché col governo che cade non c'è possibilità di portare avanti la legislatura probabilmente sia renzi che gentiloni avrebbero preferito non far andare avanti le leggi contro la famiglia contro la vita le leggi appunto nate dal da questo sceno diciamo larga intesa da centro destra e centro sinistra quindi capite bene come facevano ieri a impedire l'approvazione della legge sul testamento biologico non con l'ipocrita voto di 37 contrari quando sai che ci sono 326 favorevoli e addirittura quando neanche te presenti in aula quando hai 200 voti e le fai votare solo 37 ma semplicemente dicendo dire a quei 27 determinanti che avrebbero fatto saltare il governo facile siamo peraltro alla fine della legislatura sarebbe stata una medaglia d'onore per alternativa popolare fare questo tipo di scelta politica e vi posso assicurare che il popolo e la famiglia due cose avrà certamente se sarà portato al 3 per cento dei consensi dai vostri voti avrà i voti determinanti per costruire una maggioranza e farà sicuramente saltare il governo se dovessero essere votate leggi su principi non negoziabili questo è il lavoro che dobbiamo svolgere far capire agli italiani che il 3 per cento al popolo la famiglia è determinante per fermare e ribaltare il piano inclinato su cui altrimenti inevitabilmente si arriverà una diciottesima legislatura repubblicana che approverà il matrimonio qualitario che approverà la droga libera che approverà l'utero in affitto che approverà l'eutanasia piena e il suicidio assistito come in svizzera se non volete questo se vi opponete all'idea che si liberalizzi ulteriormente l'arborto che venga cancellato il diritto di obiezione di coscienza per i medici allora bisogna necessariamente votare popolo la famiglia fagli superare il 3 per cento e renderlo determinante ago della bilancia del sistema politico fate un mi piace un condivido a questa diretta perché qui si spiega precisamente quello che si può fare anche solo con 20 o 30 parlamentari anche solo ripeto quei 27 parlamentari alfaniani potevano alzarsi in piedi e dire facciamo cadere il governo su questa cosa e sarebbe saltata la legislatura e sarebbe stata bloccata la condizione del voto sul testamento biologico molto semplice lo stesso sarebbe accaduto sulla legge Cirinna lo stesso sarebbe accaduto sul divorzio breve la domanda di isa villanti e la domanda centrale ci riusciremo ci riusciremo se riusciremo a far capire ai tanti italiani a cui non piace la legge Cirinna a cui non piace il gender nelle scuole a cui non piace l'abolizione del diritto di obiezione di coscienza per i medici sull'aborto a cui non piace questa vergognosa legge sull'eutanasia all'italiana a cui non piace il matrimonio qualitario a cui non piace l'uterino affitto che l'unica strada è il voto al popolo della famiglia non ce ne sono altre tutto il resto è un asservimento a diktat degli ordinamenti giuridici nord europei che piovono in italia nonostante l'italia sia fatemelo dire oggi 21 aprile 2760 anni dopo la nascita di roma il faro giuridico dell'europa e del mondo stiamo importando l'ordinamento giuridico rozzo e barbaro dei popoli nord europei dimenticandoci di chi siamo di chi siamo e allora oggi l'unica strada è il voto al popolo della famiglia tutte le altre strade producono lo schema che avete visto ieri 326 voti favorevoli 37 ininfluenti contrari nonostante ci siano in mano le armi per far saltare il banco e la maggioranza e questo è già successo con la legge sul unioni gay è già successo con la legge sul divorzio breve questa è l'unica strada politica reale concreta che esiste per cambiare le cose e far saltare il piano inclinato non ce ne sono altre si illude chi crede di poter condizionare i grillini come ha provato maldestramente a fare marco tarquinio si illude chi fa la corrente cattodem nel partito democratico si illudono quelli che stanno dentro forza italia e dovevano beccarsi che pensano che fanno i cattolici dentro forza italia basta vedere i parlamentari di forza italia che hanno votato a favore della legge sul pensamento biologico così come hanno votato a favore della legge sul unioni gay a favore della legge sul divorzio breve lo stesso è accaduto con esponenti della lega lo stesso è accaduto con esponenti a persino di alternativa popolare fabrizio cicchitto di alternativa popolare ha votato a favore della legge sul testamento biologico e allora l'unica strada è il voto al popolo della famiglia perché gli eletti del popolo della famiglia saranno vincolati evidentemente dai voti che hanno ricevuto su questa piattaforma politica e dunque inevitabilmente saranno disinteressati a mantenere in piedi governi che vogliano e fare mettere normative contro questa piattaforma politica e saremo dunque in grado di bloccare l'avanzata dei falsi miti di progresso noi abbiamo fatto un giornale 500 numeri fa oggi è il numero 500 della croce che ha tuttora come catenaccio sotto la testata contro i falsi miti di progresso sono anni che lavoriamo sapendo che ci saremo ritrovati a questo punto lo sappiamo non perché siamo profeti ma perché la logica in politica regna allora noi dobbiamo costruire le condizioni come dice Alex Zino Finori di essere minoranza efficace Emiliano Velasco dice noi dobbiamo diventare grandi accogliere i cattolici gli altri movimenti abbiamo ovviamente porte e finestre aperte ma solo a queste condizioni con un soggetto politico autonomo di chi vuole difendere i principi non negoziabili altrimenti ci ritroviamo con Forza Italia che vota con importanti suoi esponenti a favore della legge sul biotestamento con l'alternativa popolare che fa lo stesso con i leghisti che si dicono a favore dell'eutanasia allora tutto questo è semplicemente intollerabile solo un soggetto politico autonomo autonomo perché i parlamentari come dice Ninnarello in questo momento i cattolici in Parlamento sono centinaia e centinaia ma non essendo autonomi essendo schiavizzati dal sistema partitico devono votare secondo le indicazioni partitiche e dunque questo è il risultato che producono noi dobbiamo assolutamente portare in Parlamento il soggetto politico autonomo di chi crede nei principi non negoziabili di chi difende la vita difende la famiglia questo è il nostro compito fin dalle prossime elezioni amministrative da subito si vota il simbolo del popolo della famiglia oggi sul Coriano La Croce numero 500 del Coriano La Croce e Dio sa la fatica vuol dire fare 500 numeri di un giornale fatemi ringraziare Giovanni Marco Tullio e tutta la squadra che tutti i giorni costruisce con me il Coriano La Croce oggi sul Coriano La Croce c'è un lungo editoriale che spiega tutti questi passaggi con una certa precisione l'alternativa siamo solo noi altrimenti anche se saremo magari meno di quei 37 ma i 37 non possono cambiare le cose perché non lo vogliono noi possiamo e dobbiamo ribaltare il piano inclinato leggete il Coriano La Croce di oggi se potete oggi proprio giorno 500 numero 500 abbonatevi al Coriano La croce v.lacrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora fate in modo di essere sempre diciamo informati su quello che fa il popolo della famiglia e sostenete il popolo della famiglia sul territorio nazionale per il lavoro che occorre fare quotidianamente a partire dall'amministrativa dell'11 giugno. Silvia Lodà dicono devono vogliono votare certe schifezze per mantenere la poltrona esattamente esattamente Angelo De Santis dice il voto di ieri dimostra l'inutilità dei cattolici frammentati nei vari partiti dove contano meno di zero bisogna concentrarsi sotto un'unica sigla saluto Emanuella Pongiluppi Leutera l'alternativa siamo noi saluto Raffaele Adinolfi Bartolomeno Tarangio di Cerguaio Grosso Caromario e la tiepidezza di noi cattolici e cristiani in genere quando non siamo capaci di essere uniti nemmeno in quei valori evangelici vuol dire che c'è una fede tiepida ma c'è una proposta chiara c'è una proposta chiara sempre più evidente saluto Sabino Sabini e il gruppo preghiera popolo la famiglia unendo preghiera e azione potremmo raggiungere quei risultati che sembravano due anni fa impensabili oggi sono concretamente nelle nostre mani lo vedrete alle elezioni amministrative i consensi che le liste del popolo la famiglia otterranno a Verona a Padova a Conegliano a Borgo Manero ad Astia a Monza a Crema a Riolo dove c'è Mirko De Carli candidato sindaco a Parma a Comacchio nei comuni campani dove ci candidiamo a Civitanova Marche a Ventotene a Davola in Sicilia vedrete quello che accade Alessandra Mondelli come dice proprio impegnata nella battaglia a Borgo Manero dice dopo le dirette Facebook dobbiamo uscire di casa certo dobbiamo andare fuori e come dice Emiliano Velasco a ribaltare il piano inclinato Chiara Samboni mi dice anche a Savigliano speriamo che la lista la facciano Gerardo Astore sta aspettando la tessera chi posso chiedere se è tutto ok mandami l'email con il tuo indirizzo perché molto spesso le poste non riescono a consegnarla per tempo però scrivi a adinolfi ghioccio a gmail.com dammi l'indirizzo la svolta siamo noi dice Gloria Gallarelli è importante che questa diretta venga percepita da più persone possibili fate un mi piace un condivido a questa diretta e Stefano Sigali forse ha ragione dicendo che piano piano le cose entreranno in testa batti e ribatti esattamente batti e ribatti le cose entreranno in testa la nostra proposta è vincente basta solo farla conoscere il consenso è a portata di mano dice Alex Zino Cristiana Papini dice ad Arezzo come siamo messi organizza una realtà ad Arezzo c'è Esther Corona ad Arezzo è venuto anche Gianfranco Amato facciamo una realtà che possa presentarsi anche ad Arezzo Paola Zen mi chiede Mario sai se a Padova hanno completato la lista parla con Maria Verita Boddi o con Mary Rossi ripeto Maria Verita Boddi o con Mary Rossi li puoi contattare qua su Facebook Mary Rossi è scritto Mary M-E-R-I Rossi quindi ho Maria Verita Boddi che sono le responsabili della lista di Padova dove stiamo lavorando anche lì per una presenza importante saluto Giovanni Albicini Raffaella Zanchini che dice giustamente che la preghiera è l'arma più potente preghiera e azione preghiera e azione ora et labora anche qui la radice profonda della cultura cristiana San Benedetto davvero tre parole semplici ora et labora Stefano Gardini dice la proposta del pdf è forte e chiara dobbiamo solo fare il porta a porta e arrivare al 3% questo Gabriella Maiglia da Arezzo ci siamo contatta popolo della famiglia Arezzo vedete questo è utile anche queste dirette sono utili anche per mettere in connessione le varie realtà del popolo della famiglia Acco Lelliano il candidato sindaco Damiano sta spopolando Lorenzo Damiano candidato sindaco Simona Lupi dice che a Tortoreto ci sono già sette candidati sindaco facciamo una lista del popolo della famiglia Simona in Abruzzo sarebbe molto importante Moreno Lovato dicevo amici che sono pessimi cattolici ma condividono gli stessi nostri valori come convincerli a votare pdf non Lega Nord o Fratelli d'Italia perché il presidio dei principi non negoziabili è solo nel pdf la Lega Nord e Fratelli d'Italia propongono per esempio la legalizzazione della prostituzione che per noi è inaccettabile esponenti della Lega Nord sono detti a favore dell'eutanasia esponenti importanti come Zaia non qualcuno di secondario quindi la difesa dei principi non negoziabili si fa con un soggetto politico che ha questa come mission d'accordo? Bartolomeo Notarangio dice provo a parlare della mia comunità parrocchiale dell'alternativa del popolo della famiglia ma credimi è molto difficile ma lo so che è molto difficile ragazzi se era facile non stavamo qui eh è ovvio che è difficile ma dobbiamo affrontare la difficoltà poi dopo verranno i momenti più semplici quando i consensi li abbiamo raccolti ma in questo momento dobbiamo fare un lavoro di raccolta di presenza e consenso Pisa c'è dice Alessandra Bertozzi saluto Silvana Scuccia Orietta Secoloni e tutti gli amici che stanno facendo un mi piace è un condividi alla diretta di oggi particolarmente rilevante perché è il Natale di Roma particolarmente rilevante perché è il giorno del numero 500 del quotidiano La Croce particolarmente rilevante perché è il giorno in cui si è manifestata la necessità assoluta di una presenza come quella del popolo della famiglia Andrea Soffer cioè Emiliano Fumaneri dice è ora che torni una politica da cattolici non solo di cattolici di politici cattolici ci sono tanti il problema è che in politica mettono il loro cattolicesimo tra parentesi perfetta sintesi di Emiliano Fumaneri anche lui protagonista oggi sul quotidiano La Croce nel numero 500 trovate un articolo di Emiliano Fumaneri saluto Paola Perissinotto saluto Maria Pia Cardinale non sono casatissimo è che sto sanguinando vedi mi è scoppiato un brufolo qui e quindi col sangue esplosa anche diciamo un po' di vitalità scherzo saluto Angelica Bosio ringrazio Mary Rossi che fa pubblicità agli abbonamenti alla Croce è di una ricchezza contenutistica e non se ne trova in giro è così saluto Vladimiro Campiello Alberto Lane Rossi Marco Rapetti Arrigoni paradossalmente è più difficile arrivare al 3% che poi salire al 5 al 6 il momento del massimo sforzo è adesso esattamente così ha ragione Marco Rapetti Arrigoni saluto Adamo Creato Ever Gheno Paolo Rodella che ci ascolta da Dallas Texas un saluto dunque anche ai tanti che ci ascoltano dall'estero è importante che gli italiani all'estero voteranno voteranno per 12 deputati e 6 senatori quindi sarà molto importante essere presenti anche nelle liste degli italiani all'estero Paolo Ruoto dice bisogna mandare un messaggio forte chiedo che un messaggio forte sia arrivato e anche le correzioni di rotta di Galantino e l'intervista oggi di Bagnasco forse devono qualcosa alla protesta che abbiamo diciamo così scatenato subito dopo l'intervista di Beppe Chillo ad avvenire e di Marco Tarquino al Corriere della Sera Sara Deodrati ricorda che stasera c'è il forum sociale alle 20 e 30 al PDF Roma via Quasimodo 113 saluto Rosa Eleonora degli esposti saluto Ottavio Delutio Lisa Baldon Maria Chiara Nordio anche lei una colonna del PDF in Veneto dice molto carico non sono molto carico dopo la legge di ieri dopo aver visto 37 voti dico 37 solo 30 persino avvenire oggi dice solo 37 voti appena 37 voti contrari persino avvenire si è accorto che così non si va da nessuna parte appena 37 voti contrari vuol dire che non contiamo più nulla che possono far approvare qualsiasi cosa e se non ci rendiamo conto di questo non ci rendiamo conto dell'emergenza in cui ci troviamo e non capiamo dello sforzo straordinario che in questo momento dobbiamo compiere non ci rendiamo conto del ruolo storico che ci viene affidato e allora davvero l'Italia la conduciamo verso la tragedia e con l'Italia l'Europa tutta saluto un sacerdote Don Carlo Custo sono tanti sacerdoti che seguono queste dirette li ringrazio molto per la loro per la loro capacità di dare sostegno fondamentale quello dei sacerdoti fondamentali sono sacerdoti che hanno detto che il popolo e la famiglia è un'occasione di salvezza per la chiesa italiana e questo lo considerano un atto che ci responsabilizza ancora di più Raffaella Socci dice solo 37 è incredibile ma chi abbiamo votato fino a oggi esattamente se non si vota popolo e la famiglia ci si ritrova in questa condizione è l'unica alternativa possibile Raffaella altrimenti sono 37 e irrilevanti Stefano Sicari dice avvenire dovrebbe dire solo scusate e beh in effetti queste sarebbero le scuse di avvenire sarebbero il minimo dopo quello ah ricordiamo sempre che comunque non viene data una riga di attenzione da avvenire allo sforzo e al lavoro del popolo e della famiglia sul territorio nazionale Isa Villanti dice la politica non può essere laica se non tiene più conto dei laici e dei valori umani ma rincorre solo il denaro e il potere la politica può essere benissimo laica e deve essere laica non è atea molto semplicemente sia chiaro questo noi non riteniamo che la parola laico corrisponda al significato di ateo non è così la nostra radice esiste quella che è la radice culturale politica religiosa degli italiani non può essere cancellata da una parolina intesa in senso traviato la politica è laica lo stato è laico la scuola è laica la magistratura è laica la televisione deve essere laica tutto vero ma non ateo allora Don Carlo Custo ci siamo arrivati a 37 ma dal 75 che i politici cattolici non contano più nulla in Italia è vero ma nel 2007 una manifestazione come il Femini Day bloccò una legge come il Dico nel 2017 non esiste capacità di proposta dei cattolici in politica e questo è qualcosa di davvero drammatico davvero drammatico mi chiedo davvero un mi piace un condividi alla diretta di oggi credo sia una diretta particolarmente rilevante dunque se riuscite a condividerla farla seguire a più persone possibili facciamo un lavoro importante nel giorno in cui tra l'altro i giornali riportano la notizia dell'ennesimo attentato terroristico islamico in Francia che ovviamente stavolta pesa significativamente nel clima elettorale tra tre giorni si vota per il primo turno delle presidenziali francesi e anche qui ancora una volta se non opponiamo una cultura della natalità una cultura della crescita anche demografica del nostro popolo l'invasione sarà inevitabile è dal punto di vista matematico che avverrà quindi poi stupirci e sgranare gli occhi per gli attentati è davvero qualcosa di particolarmente ipocrita Bobak Falamachi dice ad avvenire ha dato l'ok poi fanno finta di dispiacersi ipocriti probabilmente la tua lettura è quella reale sui fatti io vi ringrazio molto per questa diretta di oggi vi chiedo lo ripeto un mi piace e un condividi alla diretta stessa per farla seguire a più persone possibili saluto Gabriele Marconi saluto anche Jacopo Pioli che è arrivato ad ascoltarci dalla Cina oggi ascolto internazionale da Dallas alla Cina insomma dal Texas alla Cina molto bene saluto Andrea Sergio Francesco saluto Silvia Lucchetti saluto Ninarello dice grazie per quello che fai grazie per quello che facciamo tutti insieme che continuiamo a dover fare insieme a Melania Simoni Alex Zino Finori Silvia lo dà e tutti i tanti militanti del popolo della famiglia che si ritrovano sempre la mattina in questo appuntamento lo fanno circolare sulla rete per renderlo fruibile a più persone possibili e allora saluto Graziola Anna Russo Alessia Biagi Bartolomeo Notarangelo che dice stampa Evangelo serve a fare chiarezza esattamente questo è il ruolo che vogliamo cercare di svolgere dare informazioni farlo con una certa chiarezza vi ricordo oggi di leggere il numero 500 del quotidiano La Croce è davvero un traguardo importante per noi che abbiamo fatto questo lavoro con tanta abnegazione in questi anni 500 numeri di un giornale sono davvero un punto importante di arrivo siamo felici di averli scritti uno per uno questi 500 numeri grazie a Paolo Desolati che dice sei grande mentre sapete io sono solo grosso ringrazio tutti voi per la presenza alla diretta un mi piace e un condividi per far ascoltare la diretta stessa a più persone possibili ringrazio anche Alberto Olivieri Giovanni Mazzotta e tutti coloro che hanno ascoltato la diretta di questo 21 aprile 2017 che è il 2770 compleanno della città di Roma e della grandissima capacità che Roma ha avuto di essere faro di civiltà con il diritto che è nato a sostegno dei più deboli oggi purtroppo il diritto viene varato subendo l'influenza degli ordinamenti giuridici rozzi e barbarici del nord Europa dunque per affossare i più deboli e non per tutelarli un ringraziamento a Mario Cambuli a Felice Liccardi a Paolo Ruotolo e a tutti gli amici che hanno seguito la diretta di oggi un mi piace e un condividi per farla seguire a più persone possibili vi ringrazio molto viva i 500 numeri del quotidiano La Croce che sono 500 frecce al nostro arco come dice Paolo desolati da Maria di Norfi una buona giornata a tutti